E' stato inaugurato questa mattina a Tremessiere Tneo il distaccamento della Polizia Municipale che ha sede nella frazione di Canalicchio e che vedete alle mie spalle. Un punto di riferimento per il territorio che creerà un rapporto di collaborazione e di sinergia con i comuni vicini dell'Interland. A tagliare il nastro inaugurale il prefetto di Catania, Maria Guia Federico, che ha sottolineato l'importanza di rafforzare tutti quei presidi che vogliono tutelare e difendere il cittadino. L'intento è quello di ottenere una collaborazione fattiva tra i sindaci dei comuni limitrofi ai vari territori, ovviamente in stretto coordinamento con le forze dell'ordine e in sinergia con le forze dell'ordine. Parlava di comitati di sicurezza? Sì, abbiamo pensato ovviamente di organizzarci dividendo il territorio provinciale in otto macro aree all'interno delle quali sono ovviamente ricompresi i comuni limitrofi e ci sposteremo come comitato in ogni macro area cercando di ottenere, portando avanti il discorso e il ragionamento di sinergie collettive. Più siamo sicuramente migliori e più ottimali saranno le nostre risorse e i nostri interventi. Per noi è un presidio importantissimo, per noi e per i nostri cittadini. Questa era realmente una volontà, un desiderio di Canalicchio di avere il distaccamento della polizia locale in sede, qui nella delegazione, peraltro nel centro di Canalicchio perché ci troviamo a Piazza Tivoli. Per noi era un obiettivo importante da raggiungere, proclamato in campagna elettorale. Non è stato semplice, abbiamo lavorato tutti, abbiamo lavorato con l'amministrazione, con gli impiegati del comune, con il comando della polizia locale per ottenere questo risultato. Per noi non è solo una struttura, non è solo un presidio, è dare la forza a quella che è la percezione e la sicurezza per i nostri concittadini. Oggi il tema della sicurezza è un tema importantissimo, attuale, all'ordine del giorno. Noi volevamo dare una risposta, un segnale. Un presidio rappresenta proprio la presenza delle istituzioni, la presenza dello Stato, la presenza delle forze dell'ordine. Questo non è solo in maniera egoistica a carattere territoriale, ma serve anche agli altri territori. Oggi la forza degli enti locali è quella di lavorare insieme, tutti insieme, in maniera sinergica, con la prefettura che coordina. Stiamo andando incontro a quello che è una rete tra i vari comuni, una rete tra le polizie locali. Oggi tantissime presenze dei sindaci, degli altri comuni, e li ringrazio personalmente, ma dei comandanti delle altre polizie locali. Questo a dimostrazione del fatto che la gente ha sete e voglia di sicurezza, di legalità, di affermare questo principio non solo nei numeri, non solo nei risultati, ma come forma di cultura, come impostazione personale, per far rentare in quello che è nelle menti di tutti noi. Il segnale è forte, partiamo qui da Canalicchio, sicuramente con gli altri comuni riusciremo a fare iniziative altrettanto impegnative, ma altrettanto di successo. Noi vogliamo con oggi fare il primo passo, è una struttura, è una forza. Avremo il comando qui, sei unità che lavoreranno sempre a due turni al giorno, 8-14-14-20, vigilanza fissa, vigilanza dinamica. I nostri concittadini potranno chiamare all'utenza, un operatore sarà sempre disponibile, d'estate prolungheremo l'orario del servizio, in un presidio che per noi è un presidio di legalità. A prendere parte all'inaugurazione della giunta comunale, alcuni dei sindaci, assessori e consiglieri dei comuni dell'Interland, del comandante provinciale dei carabinieri Francesco Gargaro, il comandante della compagnia di Gravina di Catania Martino della Corte, il corpo della polizia municipale di Tre Mestieri, le associazioni di volontariato, sportive, gli studenti della scuola Sanzio e membri del comitato Nuova Luce.